Io uso la fascia per portare la mia bambina, è una cosa molto semplice. Cerco il centro della fascia che è indicato dall'etichetta e me lo metto in corrispondenza della pancia e poi faccio ruotare dietro i due nebbi della fascia. Li incrocio sulla schiena in questo modo e li porto davanti facendoli passare sopra le spalle. Poi li incrocio nuovamente uno sull'altro, li faccio passare all'interno della banda che avevo messo inizialmente sulla pancia, così, e li arrotolo dietro la schiena. La fascia si può legare così dietro la schiena oppure se si ha tanta stoffa si può portare davanti sulla pancia e legarla con un nodo doppio davanti alla pancia. Così è pronta per portare il bambino che adesso prendo. è arrivata la mia bambina e adesso vi faccio vedere come si inserisce nella fascia. e poi si tira su la banda con l'iniziale che era sulla pancia. Eccoci. 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 eccoci.